Assegno... Allora, ci vediamo tutti come sarebbe, adesso per fare troppo un po' di cosa. E' scritta posta, pronta stasera. E' scritta poesia, che è venuta nostri umani. Sperando a portare a venire. Povera nostra umanità, forse adesso si sa venire, ma vi sopporti il ca, ora, aspreva di aranjare. Assegno trovi i paladrati, che l'amputana ci ha diventato. E adesso noi, ben avanjare, l'umasquadra si sottanjare. Le montane, fin a nuor, a cuore e più, mappure. Basta due temporarazzi, e a rubarci un palazzo. La natura, volversa, asrivela, e a fattorità. C'ha pulando il coi di lucerne, piante, pesche, mica si vede. E la zona, che io mi chiuso, a tappo torna a delle più, e l'occhio al mondo, alle loro, egipto. Asperpi se vittè a mancè, pensant di te. Se viusum ancora mangè, senza tanto tribunale, se tenum a conservè nostri fatti, se sovum a fare nostri vie, un'arni, senza l'amore. Se nostre, che è un'arni, a delle più, che è un'arni, 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 che è paresa нам alcune cose. E anche è un'ari, che è un'arimi, che è unaarni, che è un'arni, che è un'arni, dalla sveglia di Sassini, come la via Fettentura, col grande stupo di Alenà, a questa volta accettaranno anche questa terra calentata. Per un po' troppo bene con cui, testo di loro è d'artavano, e indossano prima in testa, sua pioma è nostra mamma. Buonasera.